Nove. Nicolò. Soprannome. La russa. Chi te l'ha dato? Non ricordo. In che ruolo giochi? Difesa. Numero di maglia? 64. Perché 64? Perché all'anno di nascita di mia mamma. A quanti anni hai cominciato ad andare sul ghiaccio? Sei anni. Età? Adesso? 21. Peso? 84. Altezza? Quasi 1,90. La tua prima partita in Serie A? Quest'anno. Un tuo difetto? Non ne ho. Il tuo pregio? Essere simpatico. La penalità che ti fischiano più spesso? Trattenuto. Quella che subisci più spesso? Un po' di tutto. Cosa fai prima della partita? Mi cambio. Hai un gesto scaramantico? No. Quando segni a chi dedichi i gol? Non ne ho uno in particolare. Cosa fai dopo la partita? Sei vinto? Sono vinto. Bevo. E sei perso? Bevo. Cosa fai nella vita oltre all'hockey? Studio. Cosa vorresti fare da grande? Eh, un po' tante cose. Il tuo compagno di squadra più simpatico? Un po' tutti, dai. Quello più bello? Io. Quello con più stoffa? Nick, latino. Quello con più tecnica? Edo Caletti. Quello che non si tira mai indietro? Io. Con quale giocatore del passato avresti voluto giocare almeno una partita? Recoft. Se ti dico 6 aprile 2012, tu cosa dici? La nostra vittoria. Cosa provi a indossare la maglia nel Milano? È una bella emozione. Vincere o partecipare? Vincere. Sei uno che ci mette la faccia? Più volte. Allora dia ai nostri tifosi perché dovrebbero fare l'abbonamento alla prossima stagione del Hockey Milano Rosso Blue. Ma perché quando entri allo stadio ed è pieno ti piace, è una bella emozione perché tutti provano la tua stessa passione, quello che piace. Grazie mille. Prego. Ciao.